Con questo tutorial vediamo come risolvere disequazioni fratte. Allora qui in questo caso devo prendere quest'uno e portarlo a sinistra e dopo fare il minimo comune multiplo e quindi vado a scrivere x più 2 fratto x meno 2 meno 1 minore di 0. Ora faccio il minimo comune multiplo che è x meno 2 e quindi scrivo x più 2 e poi devo moltiplicare questo meno 1 per x meno 2 e quindi scrivo meno x più 2 minore di 0. Ora posso semplificare x con meno x e andare a riscrivere 4 fratto x meno 2 minore di 0. Ora vado a porre numeratore e denominatore maggiore di 0 e quindi scrivo 4 maggiore di 0 ed x meno 2 maggiore di 0 da cui x maggiore di 2. Rappresentazione grafica dello studio del segno. Allora per il numeratore ho 4 maggiore di 0. Questo significa che il numeratore è sempre positivo. Per il denominatore ho x maggiore di 2 quindi qui scrivo più e prima meno prodotto dei segni e poi vedo la domanda. Mi si chiede quando è che questa quantità è minore di 0 e il minore di 0 lo vedo qui e allora vado a scrivere x minore di 2. Vediamo quest'altro esempio. Allora qui a denominatore ho x meno 1, qui ho 2x meno 2. Posso andare a mettere in evidenza un 2 e scrivere 2 che moltiplica x meno 1. Poi prendo questa quantità e la porto a sinistra e scrivo x più 2 fratto x meno 1 meno 1 fratto 2 che moltiplica x meno 1 maggiore di 0. Adesso faccio il minimo comune multiplo che è 2 che moltiplica x meno 1. Questo significa che questa quantità la devo moltiplicare per 2 e scrivo 2x più 4 e poi meno 1 maggiore di 0 ed ottengo 2x più 3 fratto. Qui questo 2 lo posso semplificare perché posso moltiplicare ambo i membri per 2 e quindi scrivo direttamente x meno 1 maggiore di 0. Ora numeratore maggiore di 0 denominatore maggiore di 0 ed ottengo x maggiore di meno 3 mezzi ed x maggiore di 1. Rappresentazione grafica dello studio del segno. Allora ho x maggiore di meno 3 mezzi quindi più e prima meno. Poi ho x maggiore di 1 quindi più e prima meno prodotto dei segni e poi vedo la domanda mi si chiede quant'è che questa quantità è maggiore di 0 e il maggiore di 0 lo vedo qui e lo vedo qui. Allora vado a scrivere x minore di meno 3 mezzi del x maggiore di 1. Vediamo questi altri esempi. Allora qui osservo che ho 3x più 9 e posso andare a mettere in evidenza un 3 e quindi scrivere 3 che moltiplica x più 3. Ora prendo questa quantità e la porto a sinistra e scrivo 2 fratto x più 3 meno 1 fratto 3 che moltiplica x più 3 maggiore di 0. Minimo comune multiplo che è 3 che moltiplica x più 3 maggiore di 0. Ora devo moltiplicare questo 2 per il 3 che non ha denominatore e quindi scrivo 6 e poi meno 1 ed ottengo 5 fratto questo 3 lo posso semplificare perché moltiplico ambo i membri per 3 quindi lo tolgo e vado a scrivere x più 3 maggiore di 0. Ora pongo numeratore maggiore di 0 e denominatore maggiore di 0 ed ottengo x maggiore di meno 3. Studio del segno 5 maggiore di 0 quindi linea continua poi ho x maggiore di meno 3 quindi qui è più e prima e meno e prodotto dei segni. Vado a vedere la domanda mi si chiede quando è che questa quantità è maggiore di 0 e il maggiore di 0 lo vedo qui ossia per i valori x maggiori di meno 3. Vediamo quest'altro esempio. Prendo questa quantità e la porta sinistra e scrivo meno 2 fratto x più 1 meno x fratto x più 1 maggiore di 0 minimo comune multiplo che è x più 1 ed ottengo meno 2 meno x maggiore di 0. Qui potrei moltiplicare tutto per meno 1 e andare a riscrivere x più 2 fratto x più 1 e da maggiore di 0 visto che ho moltiplicato per meno 1 devo scrivere minore di 0. Ora numeratore maggiore di 0 e denominatore maggiore di 0 da cui x maggiore di meno 2 ed x maggiore di meno 1. Rappresentazione grafica dello studio del segno allora ho x maggiore di meno 2 più e prima meno poi ho x maggiore di meno 1 più e prima meno prodotto dei segni più meno più e poi vado a vedere la domanda la domanda è questa devo vedere il segno prima di aver separato il numeratore dal denominatore allora devo andare a vedere quando è che questa quantità è minore di 0 e il minore di 0 lo vedo qui ossia sono i valori x compresi tra meno 2 e meno 1. Vediamo questi altri esempi allora prendo questa quantità e la porto a sinistra e scrivo x più 7 poi fratto 2x più 1 meno x meno 3 fratto 2x più 1 minore di 0 faccio il minimo comune multiplo che è 2x più 1 e scrivo x più 7 e poi meno x più 3 minore di 0 vado a semplificare x con meno x ed ottengo 10 fratto 2x più 1 minore di 0 ora vado a scrivere numeratore maggiore di 0 e denominatore maggiore di 0 da cui ottengo x maggiore di meno un mezzo rappresentazione grafica dello studio del segno il numeratore è sempre positivo il denominatore è positivo per i valori più grandi di meno un mezzo e prima è negativo prodotto dei segni meno e più e poi vedo la domanda mi si chiede quando è che questa quantità è minore di 0 e il minore di 0 lo vedo qui ossia per i valori x minori di meno un mezzo vediamo quest'altro esempio allora prendo un mezzo e lo porto a sinistra e scrivo 3x meno 5 fratto 4 meno x meno un mezzo minore uguale a 0 faccio il minimo comune multiplo che è 2 che moltiplica 4 meno x allora questa quantità la devo moltiplicare per 2 e quindi scrivo 6x meno 10 e poi il meno 1 lo devo moltiplicare per 4 meno x e quindi scrivo meno 4 più x minore uguale a 0 ed ottengo 7x meno 14 fratto qui posso moltiplicare ambo i membri per 2 e in questa maniera semplifico questo 2 denominatore e quello che mi resta è 4 meno x minore uguale a 0 ora pongo numeratore 7x meno 14 maggiore uguale a 0 e denominatore 4 meno x maggiore di 0 ed ottengo x maggiore uguale a 2 e per il denominatore ottengo x minore di 4 ora rappresentazione grafica dello studio del segno ho x maggiore uguale a 2 più e prima meno poi x minore di 4 più e dopo meno quindi meno più e meno e poi vado a vedere la domanda mi si chiede quando è che questa quantità è minore uguale a 0 e il minore uguale a 0 lo vedo qui e lo vedo qui ossia per i valori x minori o uguali a 2 del x maggiore di 4 vediamo quest'altro esempio allora prendo questa quantità e la porto a sinistra ed osservo che qui ho x meno 4 mentre qui ho 4 meno x quindi qui potrei mettere in evidenza un segno meno e scrivere x meno 4 e quindi scrivo meno x fratto x meno 4 e poi meno 2x più 3 fratto x meno 4 minore uguale a 0 faccio il minimo comune multiplo che è x meno 4 e scrivo meno x meno 2x meno 3 minore uguale a 0 ed ottengo meno 3x meno 3 fratto x meno 4 minore uguale a 0 qui potrei moltiplicare tutto per meno 1 e scrivere 3x più 3 fratto x meno 4 da minore uguale scrivere maggiore uguale a 0 ora numeratore 3x più 3 maggiore uguale a 0 e denominatore x meno 4 maggiore di 0 da cui x maggiore uguale a meno 1 ed x maggiore di 4 rappresentazione grafica dello studio del segno allora ho x maggiore uguale a meno 1 più e prima meno poi ho x maggiore di 4 più e prima meno prodotto dei segni più meno più e poi vado a vedere la domanda la domanda è questa cioè devo vedere il segno prima di aver separato il numeratore dal denominatore allora devo vedere quando è che questa quantità è maggiore uguale a 0 e il maggiore uguale a 0 lo vedo qui e lo vedo qui ossia per i valori x minori uguali a meno 1 del x maggiore di 4 vediamo quest'altro esempio allora qui ho x più 8 e qui meno x meno 8 potrei mettere in evidenza qui un segno meno e metterlo qui e scrivere al denominatore x più 8 e quindi scrivo x più 6 fratto x più 8 minore uguale meno uguale meno linea di frazione e al denominatore scrivo x più 8 e il denominatore lo scrivo così com'è cioè meno x più 3 ora prendo questa quantità e la porto a sinistra e scrivo x più 6 fratto x più 8 più linea di frazione x più 8 e poi meno x più 3 minore uguale a 0 minimo comune multiplo che è x più 8 e scrivo x più 6 meno x più 3 minore uguale a 0 ora posso andare a semplificare x con meno x e scrivere 9 fratto x più 8 minore uguale a 0 ora pongo numeratore maggiore di 0 e quindi scrivo 9 maggiore uguale a 0 e denominatore x più 8 maggiore di 0 ed ottengo linea di frazione allora il numeratore è sempre una quantità verificata e quindi è sempre una quantità positiva per il denominatore devo andare a scrivere x maggiore di meno 8 quindi qui metto meno 8 più e prima meno prodotto dei segni meno e più vado a vedere la domanda che è questa mi si chiede quando è che questa quantità è minore o uguale a 0 e il minore uguale a 0 lo vedo qui ossia per i valori x minori di meno 8 vediamo questi ultimi esempi prendo questa quantità e la porta a sinistra e scrivo 1 su x meno 3 su x più 1 maggiore di 0 faccio il minimo comune multiplo che x e scrivo 1 meno 3 più x maggiore di 0 ed ottengo x meno 2 fratto x maggiore di 0 ora vado a porre numeratore x meno 2 maggiore di 0 e denominatore x maggiore di 0 per il numeratore ottengo x maggiore di 2 rappresentazione grafica dello studio del segno x maggiore di 2 più e prima meno poi ho x maggiore di 0 più e prima meno prodotto dei segni più meno più e poi vedo la domanda mi si chiede quando è che questa quantità è maggiore di 0 e il maggiore di 0 lo vedo qui e lo vedo qui ossia per i valori x minori di 0 del x maggiore di 2 vediamo quest'ultimo esempio allora qui a 2 x meno 2 posso andare a mettere in evidenza un 2 e scrivere 2 che moltiplica x meno 1 e poi riscrivo tutto a sinistra ed ottengo meno 5 fratto x meno 1 meno linea di frazione x più 2 fratto 2 che moltiplica x meno 1 più un mezzo maggiore di 0 ora vado a fare il minimo comune multiplo che è 2 che moltiplica x meno 1 allora questa quantità meno 5 la devo moltiplicare per 2 e quindi scrivo meno 10 poi meno x meno 2 e qui ho un 2 a denominatore e gli manca un x meno 1 e allora devo andare a scrivere più x meno 1 maggiore di 0 ora semplifico meno x con x ed ottengo a numeratore meno 13 fratto x meno 1 maggiore di 0 scrivo solo x meno 1 maggiore di 0 perché qui moltiplicando ambo i membri per 2 posso semplificare questo 2 a denominatore ora vado a scrivere meno 13 maggiore di 0 ed x meno 1 maggiore di 0 ossia x maggiore di 1 rappresentazione grafica dello studio del segno allora per il numeratore ho una quantità sempre negativa perché meno 13 è sempre negativa per qualunque valore di x per il denominatore ho x maggiore di 1 indico 1 quindi più e prima meno prodotto dei segni più meno e poi vado a vedere la domanda mi si chiede quando è che questa quantità è maggiore di 0 e il maggiore di 0 lo vedo qui ossia per i valori x minori di 1 e con questo esempio termino questo tutorial sulle disequazioni fratte grazie a tutti